Quando viaggi la cosa migliore è perdersi, ma è quando ci si smarrisce che i progetti lasciano il posto alle sorprese. Ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. Tu goditi il viaggio, al resto pensiamo noi. Assicura Broker di Marco Cottone, le migliori assicurazioni al miglior prezzo. Grazie a tutti.